Bene ragazzi, siamo sempre nell'ambito della relatività ristretta e siamo davanti ad un acceleratore lineare di elettroni. Esistono, li hanno costruiti e tra l'altro sono al pari degli acceleratori invece circolari, come ad esempio quello presente al cerno, quindi vengono utilizzati anche appunto per far ruotare particelle o anche semplicemente per creare dei raggi X. Voi sapete che quando gli elettroni vengono accelerati, appunto accelerando emettono radiazione, che viene chiamata radiazione di frenamento o Bremstrahlung, e quindi diciamo è un modo per creare raggi X. Comunque, acceleratore lineare di elettroni. Abbiamo un elettrone che viene accelerato, perché ovviamente all'inizio si trova presso una piastra a potenziale negativo, ok? E poi, diciamo, vola contro una piastra invece che è positiva, potenziale positivo. Allora ragazzi, qual è l'idea? L'idea è che il nostro elettrone accelera. Infatti l'inizio ha una velocità di 7,6 per 10 alla 7 metri al secondo, e poi ha una velocità di 1,4 per 10 alla 8. Allora, ovviamente accelera perché la velocità è maggiore alla fine. E poi ci viene chiesto di calcolare appunto questa differenza di potenziale che io devo applicare per creare questa accelerazione con leggi della fisica classica e con le leggi della fisica relativistica. E stiamo scoprendo che per velocità relativistica la fisica classica è sempre torto, comunque sbaglia percentualmente di molto. E quindi poi potremo anche vedere percentualmente di quanto sbaglia. Intanto consiglio, visto che per quanto riguarda le parti energetiche io non voglio usare le unità di misura classiche, ma i MEV e i C se posso, allora intanto vado a convertire queste velocità in unità di C. Cioè, semplicemente faccio 7,6 per 10 alla 7 diviso 3 per 10 alla 8, e quindi questa è una velocità pari a 0,25 e 3 periodo C, mentre 1,4, beh basta fare 1,4 diviso 3, e quindi viene una velocità pari a 0,46 periodico C. Ci risulterà più facile fare i calcoli. E poi mi ricordo una cosa, che visto che si parla di elettroni, la massa a riposo dell'elettrone in MEV su C quadro è 0,511 MEV su C quadro. Magari voi preferite fare i calcoli con i chilimetri a secondo, però poi vi faccio vedere la bellezza di fare i calcoli del genere. Poi ragazzi, come faccio a trovare il delta V? Questo è un classico problema che si fa in quarta, che riguarda la conservazione dell'energia. E quindi, ovviamente, visto che si parla di variazione di energia cinetica, e tra l'altro variazione di energia elettrostatica, perché se ad esempio chiamo questo potenziale V0, attenzione che qui è V maiuscolo, non confondiamolo con la velocità, e qui potenziale V1, io cosa posso dire? Che l'elettrone semplicemente ha acquistato energia cinetica perché ha perso in energia potenziale. Quindi l'idea è questa qua. L'idea è fare la conservazione dell'energia. La conservazione dell'energia mi dice che l'energia all'inizio, allora l'inizio è tutto con pedice 0 e la fine con 1, quindi viene l'energia cinetica che c'è all'inizio, più l'energia potenziale che c'è all'inizio, più il lavoro delle forze non conservative, è uguale all'energia cinetica che c'è alla fine, più l'energia potenziale che c'è alla fine. Ora, se io devo trovare delta V, delta V è annidato dentro la differenza tra U0 ed U1. Infatti, io le energie cinetiche, ragazzi, le conosco. Non ci sono forze non conservative. E perché dico che è annidata qua? Perché l'energia potenziale posseduta da una carica è il prodotto tra la carica stessa, che per quanto riguarda l'elettrone è meno E, dove per me E, ragazzi, è questa quantità qua, cioè è la carica di un protone o, diciamo, in versione negativa, la carica di un elettrone. Qui, proprio essendo un elettrone, metto meno E, per il potenziale che c'è in quel punto lì. E qui U1 è semplicemente la carica dell'elettrone, meno E, per V grande 1. Quindi, andando avanti con i calcoli, viene K0 meno E V0 uguale a K1 meno E V1. Allora, io so, intanto, per ottenere almeno una quantità positiva, comunque la possiamo ottenere tranquillamente, io so, tra l'altro, che V1 è maggiore di V0, perché V1 è legato alla presenza di una piastra positiva, quindi io vorrei creare V1 meno V0, per farlo porto di là questa quantità e porto K0 di qua, quindi viene E V1 meno E V0 uguale a K1 meno K0. Tra l'altro, K1 è maggiore di K0, quindi adesso davvero queste quantità sono positive. raccolgo una E, quindi viene V1 meno V0 uguale a K1 meno K0. E quindi V1 meno V0, ragazzi, non è nient'altro che la differenza di potenziale. Quindi la differenza di potenziale, divido di qua e di là per E, viene K1 meno K0 fratto E. Allora, intanto due cose. Qui diverge la classica dalla relativistica, perché l'energia cinetica ha delle formule diverse. Per la classica, ripassiamo, K è un mezzo MV quadro, invece per la relativistica un mezzo MV quadro è solo un'approssimazione a bassi gamma, perché altrimenti, in generale, è gamma meno 1 per l'energia a riposo. Quindi qui devo davvero bifurcare. Andiamo a bifurcare, nel senso che allora andiamo a calcolare la differenza di potenziale con la fisica classica, quindi sarebbe fratto E. E niente, qui devo calcolare l'energia cinetica. Allora, intanto mi segno velocemente, allora, V0 è 0.253 periodo C e V1 0.46, giusto? Periodo C, ok. Allora, come faccio, ragazzi, a calcolare allora delta V? È l'energia cinetica alla fine, che quindi sarebbe, allora, un mezzo per la massa dell'elettrone, 0.511 MeV su C quadro, per la velocità finale alla seconda, quindi questa quantità alla seconda, 0.46 periodo alla seconda per C alla seconda, meno un mezzo, che cosa? MV 0 alla seconda, quindi 0.511 MeV su C quadro, per la velocità iniziale alla seconda, 0.253 periodo alla seconda, C alla seconda. Vi faccio vedere una giocata bellissima, perché, intanto, allora, C alla seconda, C alla seconda, si semplifica, C alla seconda, C alla seconda, si semplifica, poi vi farò vedere altre giocate, però adesso basta fare i calcoli, ok? Quindi ho tolto C quadro, C quadro, C quadro, C quadro, ottengo i MeV, quindi adesso devo usare la calcolatrice. 0.5 per 0.511, per 0 punto, metto un po' di 6, sì, 46666 alla seconda, e viene questa cosa qui, 0.055642 periodo, tengo un po' di cifre, si sa mai, meno, allora, questa quantità cambia soltanto la velocità, perché è un 2, 5, 3 con tanti 3, e risulta 0.016397. Ah, ok, non sono così simili. Ovviamente tutto, ragazzi, in MeV, 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 e quindi risulta, vabbè, faccio la differenza, risulta, pare, attenzione unità di misura, 0.03925, MeV, fratto E, giocate dell'anno, la E e la E si semplificano, mega vuol dire 10 alla 6, quindi questo numero lo moltiplico per un milione, e ottengo i Volt, 39,244 Volt, o, se lo vogliamo mettere in Kilovolt, 39,244 Kilovolt. Benissimo, vogliamo fare, siamo in grado di fare quella relativistica e ben finito l'esercizio? Sì, solo che dobbiamo calcolare gamma, perché qui dovrei fare, l'energia cinetica finale è gamma finale, 1, meno 1, per la gamma E0, ma è sempre uguale, meno l'energia cinetica all'inizio, gamma 0, meno 1, sempre E0, fratto E. Allora, qui cosa cambia, ragazzi? Io ho le velocità, eccole qua. Allora, avendo le velocità, posso trovare i valori di gamma, ok? Perché sono indispensabili. Intanto vado avanti con questi conti per vedere, perché secondo me salta fuori qualcosa di interessante, perché salta fuori gamma 1, E0, meno E0, poi se faccio le tonde viene meno gamma 0, E0, e poi più E0, e infatti questi van via, io ho la minima voglia di fare dei calcoli inutili, il tutto fratto E, andiamo avanti perché, ok, devo calcolare gamma, però intanto vi faccio vedere che posso raccogliere E0, e diventa semplicemente la differenza tra i gamma, E0 so quanto fa, perché fa 0.511 mev, non mev su c quadro, perché è un'energia, per sempre la differenza tra i gamma, fratto E, E ed E si semplificano, vedete quante cose riesco a fare, quindi risulta megavolt, a questo punto faccio, dai, la differenza tra i gamma, però vengono già, ok, in megavolt. Vabbè, posso anche mettere mega come 10 alla 6, in questo modo faccio 0.511 per un milione, che viene, giustamente, 511.000, quindi vedete che io non ho ancora fatto niente, ma ho già ottenuto il risultato, mi manca solo calcolare la differenza tra i gamma. Allora, gamma è semplicemente 1 fratto la radice di 1 meno beta quadro, e vabbè, allora devo fare i due casi, perché, allora, beta all'inizio fa 0.253 periodo, beta alla fine fa 0.46 periodo, quindi gamma all'inizio, gamma alla fine. mettiamo dentro, ovviamente gamma 0 sarà piccolino, 1 fratto la radice di 1 meno 0.25 contanti 3 alla seconda, attenzione, mettiamo un po' di cifre, gamma 0 viene 1,033721, e invece se ci metto al posto di 0.253 0,4 contanti 6, viene 1.130668. Bene, allora facciamo la differenza, delta gamma, che poi è questa quantità qua, quindi me questa quantità 1,13 meno 1.033721, quindi la differenza tra i gamma è piccolina, quindi vado a riscrivere il mio 511.000 volt per delta gamma che viene 0,09694, 49.539.68 volt, che in kilovolt sono 49.540 kilovolt. quindi ho ottenuto il risultato perché con la fisica classica sono praticamente 40 kilovolt, meno della fisica relativistica perché con la fisica relativistica siamo quasi sui 50 kilovolt e quindi sbaglierei applicando, ok, 39.244 kilovolt, sbaglierei diciamo ciò che voglio ottenere, cioè una velocità finale pari a 0.46 periodo c, perché invece per ottenere quella velocità devo ovviamente dare più energia al mio elettrone. quindi